Io sono la voce di Nasrin Sotudeh, Iran. La voce di Razan Khazawi, Siria. Di Salo Al-Seini, Egitto. Avvocata. Blogger. Studentessa. Incarcerata. Per aver difeso un oppositore. Per aver criticato il governo. Torturata per aver manifestato. Perché donna. Perché donna. Invia un sms al 45509. O chiama da rete fissa. Salva con Amnesty International. Le donne in Medio Oriente. E in Nordafone. 45509. Salva la vita. Delle donne che lottano.